Accogliamo con favore la volontà da parte di ANAS di accelerare le manutenzioni sulla rete stradale Sarda. Si tratta di una parte degli impegni presi. Restiamo in attesa del piano di assunzioni che dovrà necessariamente essere avviato in Sardegna e sul quale abbiamo già trovato piena sintonia. Così l'assessore dei lavori pubblici Aldo Salaris commenta la pubblicazione dei bandi di gara ANAS per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, programmata della pavimentazione della rete stradale. Per la Sardegna si tratta di 35 milioni di euro di investimenti. Le nostre strade hanno urgente necessità di essere riportate entro i limiti di sicurezza. Non possiamo più accettare che oltre alla mancanza di collegamenti celeri, manchino anche i collegamenti sicuri. Ha continuato l'assessore Salaris, annunciando anche il ritorno in Sardegna a breve dell'amministratore delegato di ANAS Massimo Simolini. Per l'esponente della giunta Solinas, la nuova stagione di collaborazione avviata con ANAS nel corso della legislatura deve coincidere con un'azione forte e decisa di modernizzare infrastrutture della Sardegna. Non può esserci sviluppo economico senza puntare sulle infrastrutture, in primis quelle stradali. I sardi, a concluso, aspettano da tempo di vedersi riconosciuto il diritto alla mobilità.